Musica Grazie a tutti per questa nuova parte di Marmon Flora Sky la mia guida in italiano, la parte numero 13 la parte dove continueremo finalmente la nostra avventura dopo essere fermi qui da ben due parti ce l'avevamo lasciati nella scorsa parte dopo aver conquistato la nostra terza Menaglia e in questo, eh sì ciao e in questa parte già mi perdo dall'inizio dobbiamo fare un sacco di cose quindi direi di sbrigarmi immediatamente la prima fra tutte è andare a prendere forza che avevamo visto come si prendeva ovvero nella zona safari se vi ricordate due episodi fa però non la potevamo prendere perché prima c'era bisogno di aver battuto la palestra ora l'abbiamo battuta e finalmente possiamo prenderla allora, detto questo vi faccio sempre mentre ci approfondiamo qui per andare alla zona safari lasciare un bel like al video iscrivetevi al canale se ancora l'avete fatto mettere mi piace alla pagina facebook che è trovata in descrizione insieme al mio profilo instagram e a tutti gli altri miei profili social ok, benissimo andiamo e più o meno mi ricordo dov'è la strada quindi non dovremo metterci tanto tra l'altro la scorsa volta c'è andato giusto per esplorare la zona safari e vedere un po' cosa c'era niente di che ho trovato magari in questa parte troviamo davvero qualcuno no, 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 grazie ero sbagliato anche perché blitzel ce l'abbiamo usato all'altro nella scorsa parte abbiamo visto le... buone abbiamo visto, volevo dire l'evoluzione di ben due membri in squadra ovvero Asura e Athena anzi, no meglio se lasciava davanti Asura no, vabbè lasciamo Athena, dai perché tanto Athena si dovrà evolvere perfetto e qua se non sbaglio era più in là no, era qua ok, benissimo ti piace questa zona safari si, si, si ok se appunto arrivate lì con la Dinamo Veg lui vi dà l'MN04 forza non ero sicuro ma ne ero abbastanza cioè non ero certo ma ne ero abbastanza sicuro ovvero non lo sapevo per certo però si, molto simpatico non lo sapevo per certo però ci avevano detto che l'MN si trovava in questa città e io la città l'ho esplorata tutta e non ho trovato assolutamente nessun nessuna persona che mi desse forza e quindi ho pensato che ce la desse qua nel mezzo alla zona safari allora sto camminando un po' per esaurire i passi vediamo se magari qualcuno ci ci dà qualcosa interessante mentre cerco di esaurire i passi se no vediamo se riusciamo a abbandonare la zona safari direttamente dall'ingresso ma mi sa di no eh, buona fortuna ok eh, sì io vorrei andare bene, grazie a bicicletta va almeno c'è anche una musica un po' più bellina perché qui sinceramente tutto è tanto in bellina benissimo allora intanto ho approfitto per dirvi in generale un po' di cose su questo let's play che sta andando un po' più a rilento rispetto agli altri e questo lo devo ammettere cioè gli altri che ho fatto anche negli anni precedenti questo è dovuto al fatto che quest'anno l'esame di maturità e quindi molto spesso sono impegnato pertanto cerco di essere il più irregolare possibile però a certe volte non lo sono quindi mi dispiace però appunto se seguite la pagina facebook ogni talvolta viene pubblicata una puntata nuova lì almeno sulla pagina facebook rimanete sempre informati quindi per questo vi dico sempre in tutte le parti di seguirli allora dicevamo e qua abbiamo le rutelle qui teoricamente possiamo anche passare di war andai a butest town non mi ricordo il nostro caro amico no a parte lì c'è la lega poramon quindi no non ci sono dubbi parlo un attimo nel rutelle ma giusto per sfizio e poi andiamo direttamente laggiù nel rut p perché lì c'è la lega poramon il nostro caro amico lino ci avrà detto di ritrovarci nella sua città natale ma magari è molto più avanti nel gioco io non lo so allora un'ultima cosa se non sbaglio controllo un attimo la borsa e poi andiamo super esatto no no io devo velocemente ma proprio straveloce e comprare dei medi devo comprare dei medi ma proprio faccio velocissimo poi cominciamo davvero perché già ho perso troppo tempo allora super pozioni a manetta tanto i soldi non ne ho tantissimi ma non ne ho neanche poi antico che parasilello ovviamente 2 e 2 e 3 vabbè ormai l'ho fatto superiore per le ne ho 0 mamma mia allora compriamo un e 9 ok che per chi non lo sa io non so neanche perché certe volte mi viene da di queste cose evitano l'incontro farmon selvatici ma penso lo sappiate tutti insomma per 200 passi ok io si sono levati anche lino e quell'altro e si era anche baggato forse non ve l'ho fatto vedere o non mi ricordo si era baggato praticamente nonostante lino e il tipo del timidero l'avevamo già affrontati e era andato o meno andato quindi lino cercava il poirex e tutto continuavano a rimanere lì per un bug e quindi nulla però a quanto pare una volta trovati il poirex se ne vanno perfetto allora qua possiamo andare se non sbaglio tranquillamente sì sì tanto lì abbiamo già affrontato tutti Psyduck 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 fighissimo mi servirebbe un tipo acqua non Psyduck c'ho una mezza ideuccia ve lo dirò subito su chi prende di tipo acqua perché più o meno so però appunto non non voglio anticipare niente c'ho una mezza idea a Butest Town appunto ce l'avevamo stati se vi ricordate due parti fa avevamo visitato tutto tutto bello tutto interessante però lui ci mancava cioè l'avevamo ci avevamo parlato e ci diceva che non riusciva a passare qua pertanto noi ora dobbiamo insegnare forza a qualcuno io siccome forza è una mossa buona la insegnerei volentieri anche un membro della squadra precisamente esatto la insegnerei ma sono molto in dubbio perché potrei insegnarla sia a Asura che a Stardust perché no io la insegno scusatemi a Asura la insegna a Asura eppure voglio insegnarla a Stardust ha il posto tranquillamente di Tegol ma in realtà potrei insegnarla anche a tutte e due che mi scorcia magari in futuro lo farò chi lo sa Asura ha imparato forza magari nella prossima parte alleno anche i Polamun sarebbe cosa buona e giusta perché davvero più che altro Gabite cosa? oddio me l'ha dato come se l'uovo muovesse la roccia stranissimo ok apriamoli questo varco per casa sua lo spaccaroccio che aveva patratte perfetto ora vediamo cosa ci dice ho torto queste rocce grazie molte io ti sono molto grazie sarei molto grafo se tu visitassi la mia casa ah ok passa lui va bene andiamo immediatamente a visitarla immediatamente a visitarla dobbiamo quella è la mia casa Matti io sono indebitante sai e conosci la città di Siroland City è un'isola in Nevada è molto interessante sarebbe molto interessante se tu ci andassi io ho un lapas sulla spiaggia l'hai visto? è un po' fantastico perché non provi a cavalcarlo? certo sì perché no potevamo vedere vabbè potevamo visitarla a spiaggia ma non penso ci fosse niente o forse l'avevamo già visitata questa è una delle musiche che adoro di più vi dirò la verità questa musica che sarebbe quella della nave che qui è diventata un lapas che è una figata alla fine è davvero molto figo allora Siroland City è un'isola innevata il che la rende sinceramente diversa dalle altre isole degli altri giochi e questo mi fa piacere ah ok non mi aveste affrontato no non volevo andare così sul ghiaccio vi dirò la verità però non ho mai sono andato metto Psyche al primo posto perché almeno faccio prima vi ricordo che Athena come ho detto anche inizio fatti al livello 30 si evolve quindi mi manca davvero poco affrontiamo anche te grazie dicevo dicevo a livello 30 si evolve quindi manca poco manca molto poco molto poco gioco di parole per questo vediamo di farlo evolvere con una certa rapidità dall'altro io volevo fare una cosa ma non so se l'ora lo posso fare o lo imparerà solo successivamente volevo insegnare Athena Honda Shock che ci hanno nella scorsa parte Shockwave allora da Gardevoir la impara sicuramente da Achilia non lo so ma la impara anche da Achilia perfetto e noi gliela insegniamo tranquillamente al posto di abbiamo scoperto le fiasce di doppio team ma alla fine Athena non è che gli serve più di tanto il doppio team o forse si vabbè gli tolgo confusione dai gli tolgo confusione tanto abbiamo Psyche chi se ne frega dopo team glielo voglio lasciare perché con Stardust abbiamo visto nella scorsa parte che ci è tornato molto utile allora lì perfetto lì però se può cadere non capisco come vabbè tre palli un po' non c'è niente vabbè andiamo a parlare con te che c'hai lo zigzag ok vabbè niente di che perfetto no pensavo ci dissi a cosa l'importante perché solitamente i dialoghi lunghi portano sempre per cosa importante allora vai benissimo dimmi che poi abbiamo di acqua perfetto vedete ecco a cosa serve l'Athena Shockwave a questo anche se per ora non gli fa tanto ma ripeto vedete quando si evolverà sfonderà i culi ma tanto lo dirò dalla parte 2 lo dirò da quando ho catturato l'Athena benissimo ok siamo in città ok poi andiamo a visitare dopo sto dicendo troppe volte ok allora lì poi qui c'è addirittura la palestra ma io direi l'affrontiamo nella prossima parte già la prossima palestra che se è di tipo ghiaccio mi sa che il nostro bell avrà tanto lavoro da fare allora curiamo i nostri forum e poi andiamo a esplorare la città per vedere un po' cosa ci regala di bello questa nuova città benissimo benissimo no 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 ma è lentissimo questo gioco a curare la squadra cioè questo gioco è lentissimo a curarti la squadra è impressionante è davvero lento va bene yes perfetto ah ok questo è stupito dal poidex perfetto a posto ma solo te allora no ma questa idea dell'isola ghiacciata a me piace tantissimo allora quell'edificio lì lo esploro per ultimo come un po' tutti ok eccomi tornato scusate l'interruzione ma lo sapete ormai il mio controller fa abbastanza bizze fa tante bizze ok oh questo è quel tipo dell'isola miraggio che appare in poramon smerato su cui girano tantissime teorie false ovviamente dopo aver lanciato un tot di missili da zufoli il tipo ti dirà che l'isola miraggio appare non è vero non è vero c'è l'evento l'unico modo è quello per andare sull'isola miraggio quindi armarevi di pazienza perché quello è il metodo e armarevi i trucchi soprattutto ok allora andiamo in questo sea underground sea round underground che sembra un gioco di parole c'è il timidero se blocchiamo questo passaggio le persone possono le persone possono passare attraverso il mare se vogliono andare a charpus e il mare è la nostra casa ok quindi nessuno deve passare di qui va bene va bene quindi prima di affrontare la palestra per minimo comunque andiamo a esplorare questo enorme edificio che è il museo il museo il museo oceanio perfetto c'è anche il timidero sì sì in un tempo il museo oceanio se non sbaglio c'è il timidero cioè c'è il timidero in tutti i sensi il team aqua scherzo perché in inglese si chiama team aqua che in realtà è molto figo devo essere sincero e poi è il nome di uno dei più famosi team italiani di competitivo il team aqua quindi shelly ah oh mio dio allora allora ci dovranno andare per davvero non l'ho tradotto mi dispiace praticamente ha detto che con questo automarino possiamo andare a catturare a chiocchi pensavo fosse una retiuta qualunque va bene no non l'ho capito davvero non mi dicchiai beh lo sapevo meno male gli ho insegnato shockwave perché vi ricordo che carvani è anche tipo buio quindi athena con solo psichono non avrebbe fatto niente e il problema avevamo anche supponiamo Rubino Zaffir Smeraldo tutte le volte riprendo Chirlia perfetto tra l'altro in questa parte del gioco ovviamente su Rubino Zaffir Smeraldo c'è prima della terza palestra invece qui è presente dopo questa è l'unica cosa voglio dire sto cambiamento però alla fine non cambia c'è un po' la fotopia dell'evento questa la fotopia cioè succede anche su Parma Milo Zaffir Smeraldo sta cosa quindi va bene deluso penso sia molto deluso due membri in acqua non riescono a battere un bambino adesso vado a vedere le mie abilità va bene Shelly che c'ha Sharpido quindi stiamo ah me la sono cercata me la sono cercata tantissimo ma meno male ci sa stare da stai ragazzi vabbè quick attack beh ho sbagliato via Spark vai eh me la sono un po' cercata questo è vero perché sapevo che non avrebbe esistito uh Ivan che tra l'altro lo sprite di Ivan in questa generazione è bruttissimo un sorbino omega zaffio alfa l'hanno reso molto meglio noi siamo il team acqua e il team idro e amiamo il mare io sono il leader del team idro Archie che io molto spesso li amerò Ivan perché è il suo nome praticamente e e quindi però lo li amerò Archie via provo a fa questo sforzo eh perché state afferendo con noi tu tu non puoi eh tu non sei uno del team magma tu sei uno del team magma pormone persone tutta la vita dipende dal mare quindi il team ma qua si dedica all'espansione del mare tu non sei d'accordo va bene cavoli tuoi il nostro è un nobile obiettivo ma io si distruggerò e tante cose non te lo dimenti va bene va bene e qui il team idro se dovrebbe essere elevato da quella underwater cose insomma da quella osa lì da quel coso lì si dovrebbe essere tolto andiamo un po' a vedere giusto per magari nelle prossime parti con K è esatto tra l'altro posso andare a sperarlo un po' no? che figata mi sembra molto ma qui ci sono gli allenatori beh allora un attimo eh faccio così mi vado a curare la squadra e ci rivediamo qua ok curata la squadra quindi siamo pronti a andare avanti più che altro per Atena perché era morta e vorrei fargli raggiungere il livello più alto possibile allora io lo so che questa è la strada poi per proseguire verso eh la nuova città insomma è passo per andare avanti però io semplicemente voglio affrontare gli allenatori non voglio andare avanti quindi non vi preoccupate insomma affronto l'allenatore poi ritorno indietro nella prossima parte ovviamente affrontiamo la palestra questo perché voglio allenare un po' Atena che come vedete prende tantissimi danni non riesce a resistere una cavolo di mossa neanche una pertanto voglio che diventi un gardevoir è il prima possibile anche se fosse possibile vedete qua c'è tantissimo allenatore quindi anche off camera potrei davvero mettermi e fare il devasto frutto sale ora vedo c'è più che altro posso allenare qui i poamon questo è il vantaggio mamma mia mamma mia ah che palle vedo cambio a 100 poamon diversi come sempre ragazzi i poamoni di tipo elettro nelle mie squadre sono sempre più forti sempre ma in tutte le serie sono un'eroma impressionante in tutte le serie i miei poamoni di tipo elettro sono i più forti delle serie tutte porca troia eh mi attacco prima io bello mia quindi si ammazzo nonostante se ho livello sopra mi tocca ricurare l'atena evviva va bene veniamo un po' allora qua va bene c'è l'uscita qui ti dirà lui no non puoi passare perché devi avere prima la medaglia qui prendiamo lo strumento pp max buono questa è la lega ce li riceriamo tutti 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 ce li riceriamo io penso ci sono molti strumenti nascosti qui tra l'altro abbiamo ricerca strumenti magari off camera se ne ho voglia li cerco ma non vi assicuro niente ecco questo ve lo dio subito più che altro perché scomodale ma ho già da fare tante cose se mi metto anche a cercare gli strumenti madonna ragazzi c'è verso aver difficoltà con un dance pass oh meno male cioè io meno male mi ha paralizzato questa è la verità perché se non mi avesse paralizzato io ragazzi sarei rimasto è ovvero sarei rimasto addormentato e quello mi rimarrerebbe scocciato un po' super pozzato attenzione bubble beam attenzione ci fa le cose mamma mia meno male che la tena attacca sempre sul miracolo e vabbè 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 asura dormi mamma mia io davvero devo allenare gli stifo di brutto anche e qui è tanto inutile gli affronti gli altri allenatori perché gli affronto più volentieri off camera molto più volentieri off camera l'affronto anche perché già siamo a 20 minuti quindi volentieri un po' la parte e questi come ho detto off camera almeno nella prossima parte possiamo andare a battere il nuovo popolestra e il quarto popolestra o la quarta popolestra non ne ho idea quindi da mattinizzare a tutto un like e commento rischio al canale e so che vi fate noi ci vediamo nella prossima parte di Balmón Flora Sky ciao a tutti qui Grazie a tutti.